Il campionato si ferma per gli incontri delle nazionali e la Sampdoria torna ad allenarsi a Bogliasco Marco Giampaolo prosegue il proprio lavoro senza gli undici nazionali, Joachim Andersen, Emile Audero, Vid Belek, Bartos Berezinski, Omar Collei, Albini Ekdal, Jakub Jankto, Karolinetti, Dennis Bratt, Fabio Quagliarella e Ronaldo Vieira Il tecnico deve fare a meno inoltre di Gaston Ramirez, Riccardo Saponara e Lorenzo Tonelli sottoposti a sedute personalizzate Edgar Barreto e Gianluca Caprari hanno proseguito i rispettivi percorsi di recupero agonistico L'allenatore disporrà in questi giorni di una squadra decimata ma non fa sconti, domani, giovedì, seduta di allenamento pomeridiana Grazie a tutti